Una settimana fa salutava il Teatro San Carlo di Napoli. Da oggi è ufficialmente il nuovo numero uno del Teatro Sociale di Como Aslico, in serata la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Fedora Sorrentino raccoglie l'eredità di Barbara Minghetti, che dopo otto anni cambia ruolo, si dedicherà alla programmazione e ai progetti speciali. Il 28 settembre scorso era la prima della stagione, oggi il passaggio di consegne. Per Fedora Sorrentino si tratta di un ritorno in Rivalario, è già stata direttore di produzione in Aslico, pur da lontano però non ha mai smesso di seguire il lavoro fatto a Como, facendo parte degli associati della massima sala cittadina. In questi anni il teatro si è aperto sempre più alle nuove generazioni, arrivando a proporre anche opere della tradizione con una chiave di lettura estremamente attuale. Si pensi poi al Festival Como Città della Musica e agli eventi estivi in arena. Quest'anno un'altra novità ad aprire una stagione dedicata alla scienza, una prima mondiale con Ettore Maiorana, cronaca di infinite scomparse. Un percorso insomma, quello tracciato dal suo predecessore, che il nuovo presidente ha intenzione di continuare. Il futuro è caratterizzato dall'innovazione e dall'esperienza. Dobbiamo regalare al pubblico un teatro che stupisce, e per stupire non bisogna dimenticare ciò che arriva dal passato, ma bisogna rileggerlo, reinventarlo. Dal teatro bisogna uscire con degli interrogativi, con delle domande, altrimenti il teatro non ha senso di esistere. Sorrentino ha le idee chiare in un'ottica di sempre maggiore integrazione tra la città e il suo teatro. Il teatro è di tutti nel senso che deve essere accessibile a tutti, i contenuti devono essere accessibili a tutti, deve essere da tutti la possibilità di entrare in teatro. Lo spettacolo dal vivo generalmente è un tipo di divertimento costoso, per cui è lì che bisogna intervenire. Bisogna lavorare per rendere accessibile sia dal punto di vista dei contenuti, ma soprattutto dal punto di vista delle possibilità. Fedora Sorrentino, 41 anni, laureata in giurisprudenza, dopo i diplomi di pianoforte e di didattica per la musica, si specializza all'Accademia della Scala di Milano come maestro collaboratore per l'opera e il ballo. Ha trascorso le ultime due stagioni come responsabile di produzione alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, dove si è misurata con una squadra tutta il femminile, come quella comasca che l'ha accolta oggi, ma ammette di aver imparato molto anche dagli uomini. Dal team maschile del San Carlo ho imparato a rallentare e a distinguere l'importanza e l'urgenza, che sono due concetti simili ma profondamente differenti, per cui questo è stato fondamentale, la gestione di un teatro più grande e la capacità di ascoltare.